Villa Amirador è una location ricca di fascino che in occasione delle vostre nozze vi propone sale raffinate, una cucina prelibata e servizi eccellenti per assicurarvi un evento dall'atmosfera magica. All'interno della villa vi aspettano 5 sale che, con i loro arredi ricercati e fini, costituiscono uno scenario raffinato e affascinante dove ambientare il vostro banchetto nuziale. Immersa nello scenario naturale dell'Etna, questa splendida dimora offre molteplici spazi nei quali accogliere il vostro ricevimento, come ad esempio la splendida Aurora Garden, un'area esterna situata a bordo piscina, luogo ideale per chi desidera celebrare il grande giorno all'aperto. Per i festeggiamenti inoltre, Villa Amirador mette a vostra disposizione la Sala Sinfonia, che con la sua illuminazione suggestiva farà da cornice ai momenti romantici e felici delle vostre nozze, trasformandosi in una meravigliosa pista da ballo. Villa Amirador vanta di uno staff giovane e dinamico, in grado di seguirvi nella pianificazione del vostro ricevimento di matrimonio. Ogni aspetto sarà curato dal personale preparato e attento della villa, che trasformerà le vostre nozze in un evento indimenticabile per voi e per tutti i vostri invitati. La cucina di Villa Amirador vi offrirà una vasta selezione di antipasti e piatti prelibati, che esaltano il sapore e il gusto della migliore tradizione culinaria regionale, per un banchetto di nozze unico e personalizzato. Villa Amirador è il luogo dove i vostri sogni di nozze si trasformano in realtà.